Turni continui dalle 7 a mezzanotte e mezza presso gli stalli del parcheggio dell'hotel Amiternum all'Aquila per garantire un servizio ai cittadini utenti anche nei giorni festivi. È quanto scaturito da un'intesa tra il comune dell'Aquila e tassisti cittadini dopo aver valutato le esigenze dell'utenza anche in relazione ai diversi periodi dell'anno e lasciando la scelta ai singoli operatori di coprire nelle 24 ore il servizio su tutto il territorio. Una scelta condivisa a seguito dell'accettazione del positivo apporto dei rappresentanti delle associazioni di categoria dichiarato l'assessore comunale Pierluigi Mancini per superare le incomprensioni che spesso sono sorte tra i tassisti 19 in tutto di cui 15 consorziati e che ora dovranno necessariamente adeguare l'offerta alla richiesta della clientela secondo i principi della concorrenzialità. A breve comunque i turni dei 19 tassisti saranno online sul sito del comune dell'Aquila. Stiamo inoltre perfezionando ha detto Mancini la carta dei servizi per i taxi al fine di migliorare i servizi per gli utenti e pubblicizzarne i termini. Oltre al parcheggio dell'hotel Amiternum il servizio è attivo negli altri tre parcheggi distribuiti tra zona est ed ovest, Fontana Luminosa, Terminal di Colle Maggio e Stazione Ferroviaria. Ringrazio l'assessore Mancini e il dirigente Nardis, ha dichiarato il sindaco Massimo Cialente, per essere venuti a capo di una vicenda che da troppo si trascinava e soprattutto per aver riposto al centro dei servizi gli interessi dei cittadini utenti.